Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Mirko e Perla, voto 6. Le trame trasportate da un programma all'altro sono sempre qualcosa di molto delicato da gestire, e spesso noioso per il pubblico. È il rischio che si corre con Mirko e Perla. L'ingresso della storica ex è salutato come un ritorno di fiamma annunciato. La chimica non è mai sparita, ma occorre fare i conti con l'elemento esterno Greta, e in silenzio social, che tra non molto potrebbe trovare uno spazio più concreto, così come con Angelica. Mirko non vede malizia nel loro rapporto e per Cesare la giovane potrebbe avere un ruolo nella riconciliazione dei due ex. La finta eliminazione e la scelta di Schwarzer, voto 7. Il GF gioca con i sentimenti. Questo è risaputo. Stavolta è toccato a Paolo e Letizia, ai quali è stato fatto credere che il televoto fosse eliminatorio. Una versione venduta in realtà a tutti i concorrenti della casa. Portato in superled, i due si sono di fatto detti addio, con lei pronta ad aspettarlo fuori, in caso di eliminazione. A essere eliminato è in realtà il giovane, anche se per finta. Vengono poi annunciati i preferiti. Grecia e Ciro si aggiungono a Beatrice e Anita. Sono tutti immuni. Spazio poi alla decisione di Alex Schwarzer. Dopo aver scoperto la decisione di non ridurre la sua squalifica, il che lo esclude dalle Olimpiadi del 2024, voleva del tempo per decidere il da farsi. Ha infine scelto di restare in gioco. L'addio di Ciro, voto 5. Il rapporto tra Ciro Petrone e i reality non è di certo idiliaco. Nel 2019 ha ricevuto una squalifica da Temptation Island avendo raggiunto in maniera forzata il villaggio delle donne, per ritrovare la fidanzata Federica Caputo. Ora spiega ad aver perso gli stimoli per restare nella casa del grande fratello. La produzione ha tentato di convincerlo, invitando anche suo fratello Vincenzo, non riesco a superare le difficoltà fisiche. Non dormo bene, sono nervoso e non sono me stesso. Non sono più io e non ce la faccio. Lasciare è l'unica cosa che voglio fare. Una scena un po' al triste, con il fratello che gli ha proposto di fare a cambio vita, cedendogli le levatacce per andare al mercato in cambio del soggiorno del GF. Dello stesso avviso Alfonso Signorini, sei al grande fratello, non in miniera. Nulla da fare, alla fine. Porta rossa aperta e addio. Con il conduttore che sottolinea come abbia preso la miglior decisione, forse, per sé e non di certo per il programma.